Nicolò, sei sulle pagine dell'ultimo numero di Topolino, protagonista di un articolo, una giornalista ti ha intervistato. Come è nato tutto? Tutto è nato quattro anni fa, vedendo gli artisti di strada di Clusone. Mi sono innamorato della giocoleria, soprattutto di strada, e ho cominciato con attrezzi base e poi pian piano, continuando ad allenarmi, ho diventato sempre un po' più bravo e adesso sono qua. Hai già una tua valigia da artista, spiegaci un po' a cosa serve e che cosa contiene. La valigia è partita l'idea da mia madre, che in pratica prima mettevo le cose dentro un carrello che adesso uso per fare solo gli allenamenti, ma a un certo punto a mia mamma gli è venuta l'idea di creare una valigia per me, cioè tutta originale, fatta per me, come piace a me, e abbiamo messo tutti gli attrezzi appostati sulla valigia. E poi qua è una valigetta in cui ci sono le bacchette per il diablo e vari strumenti, cioè attrezzi. E poi di solito la leghiamo insieme a questo specie di carrello, così almeno resta su e la gente mentre passa può vedere i vari attrezzi. Ti sei scelto anche un vero nome da artista, se lo vuoi dire, se lo vuoi spiegare. Cirillo Birillo, e l'idea è partita da mia madre, cioè ancora da mia madre, perché gli volevo un nome. Allora a me mi è venuto in mente Cirillo Birillo, perché Cirillo il cognome è Birillo, perché fa rima, e poi perché uso le clavette che assomigliano dei birilli. Quanto ti alleni ogni giorno, quanto ti eserciti per poi essere pronto per le serate, per gli spettacoli? Prima degli spettacoli e delle serate mi alleno soprattutto prima dei festival, delle serate così, mentre allenamento normale l'estate quasi tutti i giorni, mezz'ora, un'ora, mentre l'inverno mi alleno un po' di meno, perché tante volte siamo al tempo, però cerco almeno di fare due o tre giorni alla settimana di allenamento. Torniamo a quest'intervista con Topolino. Tutto è nato un po' per caso, vuoi raccontarci? Che una editor del Topolino, mentre mi stavo esibendo alla Notte Bianca dell'anno scorso a Clusone, mi ha visto esibirmi, mi ha fatto i complimenti, e visto che lavorava per il Topolino, mi ha chiesto se volevo parlare di me, e mi chiedeva se volevo che prossimamente mi usciva uno speciale proprio sul Topolino di due o tre pagine. E poi cosa è successo? Che a maggio è arrivata la giornalista, e mi ha intervistato, e mi ha... Ti hanno fatto delle foto, sono stati a casa tua. Sì, anche dei video, di delle esibizioni, e... E come è stata questa esperienza per te? È stata bella, perché, cioè, io non mi aspettavo di finire sul Topolino, perciò, cioè, sono rimasto anche un po' affascinato.